Una volta introdotta la nuova classificazione dei veicoli secondo le categorie da Euro 0 a Euro 6, ci si poteva aspettare che gli Euro 0, cioè i più inquinanti, sarebbero spariti, visto che dal 1992 sono fuori norma. Al contrario, sono ancora molto numerosi e addirittura aumentano, secondo un'indagine di Facile.it, che presenta una tendenza diversa in provincia di Cremona da quella indicata dall'Automobile Club d'Italia. Secondo l'ACI, gli Euro 0 erano poco più del 6% dei veicoli in circolazione nel 2012, per diminuire lentamente, tanto che nel 2015 erano ancora 13.171, oltre a 5.000, mentre il totale dei veicoli aumenta ogni anno, da 211.000 del 2012 ai 213.556 del 2015, malgrado la crisi demografica e in particolare della natalità. Automobilisti si nasce e lo si resta sempre più a lungo. Le auto elettriche nelle statistiche provinciali compaiono solo nel 2015, sono soltanto 12. Secondo l'indagine del sito Facile.it, invece, gli Euro 0, auto vecchie inquinanti, bandite da tutti i blocchi di traffico nei giorni in cui le polveri sottili PM10 sono alte, sono molti di più, oltre 19.000 e arrivano quasi al 10%. Cremona, anzi, è al 97esimo posto tra le province italiane per il gran numero di Euro 0, secondo la caratteristica della Lombardia, che ritiene il primato nazionale negativo fra tutte le regioni. La leva fiscale svolge il suo ruolo. Le automobili più vecchie sono esentate dal pagamento del bollo e vengono considerate autostoriche, costruite in un'epoca priva di restrizioni ambientali, filtri e soglie da rispettare, che però garantisce ancora una sorta di salva condotto fiscale. Le altre province lombarde sono in una condizione anche peggiore di Cremona. A Milano, Pavia e Lodi, più di un'autovettura su 10 si trova nella categoria peggiore, la più criticata dagli ecologisti e dai medici, che però conta nell'intera Lombardia ben 600.000 veicoli fuori norma da ormai 25 anni, da quando, cioè, anche la loro produzione è proibita dalla legge.